il patato pieno di coriandoli hai visto? aspetta che ne prendiamo ancora eh come è questa storia? aspetta patato patato guarda ciao guys it's an interview from bed kind of warning about the new collection and capsule collection coming up from Chiara Carrani yesterday I watched this movie that somebody suggested me called enemy and it was so psychological but so fucked up in a way I don't know it kind of makes you think a lot hai fatto la caccona? eh? si dice quella parola assa piccolino piccolino qui e quando piccolino? ragnatele presenta amichevole spider-man di quartiere sig dice capitano marvel perchè stai seduto sul capano degli attrezzi spider-man? e quando piccolino e quando piccolino? ragnatele presenta amichevole spider-man di quartiere si dice si dice e quando piccolino? e quando piccolino? che c'era venire o e quando piccolino? Grazie a tutti